E' obbligatorio parlarne, è obbligatorio ricordare affinché non si spengono i fari su questa assurda vicenda. Per questo, ancora una volta, gridiamo a gran voce, giustizia perdonato! Giustizia perdonato è il messaggio che lanciano familiari e amici da quel maledetto 6 ottobre 2018 quando Donato Monopoli, cerignolano di 26 anni, incassò in una discoteca alla periferia di Foggia i colpi che gli furono purtroppo fatali. Morì sette mesi dopo all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Giustizia perdonato è anche il messaggio lanciato durante il memorial a lui intitolato, organizzato dagli amici di Monopoli e andato in scena sui campi del centro sportivo Parisi di Cerignola. Otto le squadre partecipanti, quindici complessivamente le partite giocate, presente pure una folta delegazione di tesserati dell'audace Cerignola al fianco di Donato Monopoli dal giorno della tragedia. Secondo noi, con l'esecutivo, sono organizzati questo donato in memoria di Donato, siamo contentissimi. Una sorpresa è stata vedere anche le bambine, le scarpe a Terusa. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno organizzato questo evento. Intervenne a difesa di un suo amico per sedare una rissa. Quel gesto gli costò la vita lasciando un profondo dolore tra i suoi parenti ed amici. Lo hanno voluto ricordare su un campo di calcio, il suo terreno preferito. In passato Monopoli ha militato anche nelle giovanili dell'audace Cerignola. Ora tutti chiedono giustizia per Donato in vista della sentenza prevista al termine dell'udienza di venerdì prossimo. Quello che ci aspettiamo è che veramente sia fatta giustizia.